Fotocolor Munnia, per te che sai ancora amare. Coglieremo l'attimo fuggente. Conquisteremo la luce. Annulleremo le distanze. Renderemo immortali i tuoi sentimenti e li custodiremo in un album unico ed esclusivo. Se cerchi il fotografo ideale per il tuo matrimonio, Fotocolor Munnia è quello che fa per te. Fotocolor Munnia, le emozioni di un attimo, in un album per sempre. Fotocolor Munnia. Via Cristoforo Colombo 127, Patti Marina Messina. Telefono 0941 36 8702 www.munnia.it